siete pronti a incontrare il diavolo ragazzi io non so voi ma veramente sono eccitatissimo ragazzi perché è tutto il già è da millennio che sto aspettando il diavolo ragazzi cosa è successo vabbè ho preso una decisione per sbaglio perché mi si era incantato il gioco ok tanto non era nulla non succedeva niente stavamo scavando per loro abbiamo trovato l'entrata di una strana cripta andate via perché veramente non posso permettermi di perdermi ora che c'ho il diavolo ho richiesto il tuo aiuto per poter mantenere la chiesa in buon controllo io gli dico lì no sperando che ma il popolo non odiava la chiesa ok eccolo qua il diavolo ragazzi cioè ok quindi il popolo già metto il diavolo perché insomma non importa rex sta come si dice piangendo c'è proprio disperato e triste qualcosa non qualcosa non sta funzionando posso tirare un calcio al cane ma io dico la carezza il cane ed eccolo qua diavolo a se ve lo credete già così sotto c'è la musica ma dopo dieci minuti di musica questa qui diventa come una specie di tortura quindi fate prima soltanto per non sentire il silenzio sotto quindi proprio inutile la musica fate prima ad ascoltare il gameplay con la radio accesa la stessa roba diavolo il tempo se n'è andato lo spazio è pazzo ecco che arriva ancora una volta senti la tua bocca che si chiude come se non avessi mai avuta una piccolo re piccolo pupazzo qualsiasi cosa facciamo senza controllo un nuovo millennio sta arrivando e tu sei ancora qui tu non ti renderai facilmente te lo garantisco ma sono annoiato ma sono annoiato quindi questo qui sarà il nostro ultimo incontro ti dimenticherò qui e troverò per me stesso un'altra anima da poter torturare ti garantisco che ti garantisco un ultimo desiderio scegli bene ti prometto che ti prometto che colui che mi mostrai morirà e io non ho mai fallito in questo desiderio di morte il prossimo carattere a cui direi di si morirà quindi io direi di padre qui padre qui lo rompe il cazzo ragazzi io dico sì così facendo muore un corpo è stato trovato per un mondo di avrei voluto uccidere tipo gente che tanto moriva comunque tipo la regina ma tanto poi il secolo dopo lo ritroviamo comunque quindi muore soltanto per quest'anno qua un corpo è stato trovato tardi nella notte brutalmente torturato insanguinato beh non doveva essere l'ultimo incontro del diavolo questo il messaggio dice un kraken è stato visto no io sto pensando non dovevo sfidare il diavolo vabbè vediamo qua che succede un kraken è stato visto i pescatori sono terrificati preghiamo non la chiesa già al massimo generale una nave è stata messa in quarantena potrebbe contenere una piaga dovremmo mettere in quarantena il porto intero dico di sì perché generalmente succedono casini se no signore dobbiamo spendere un po' di soldi per costruire una come si chiama fienia dove contengono il cibo c'è ecco qua c'è una fuoriuscita di colera nel capitale è la morte blu e la madonna trattate la popolazione che ho detto legati trattate la popolazione dove cercare di salvarli l'est e il sud ci stanno coordinando attacco contro di noi dovremmo chiedere aiuto si ragazzi mi hai fatto la posta a farmi perdere questa qui l'attacorta è ruminata il mio rodo i mercanti e le nobilità posseguono tutto la banca centrale la banca centrale può provvedere a una la corona io gli dico di sì se facendo la central bank scompare ma abbiamo la corona per favore seguo il mio rodo è successo qualcosa di terribile sono boiata ragazzi generalmente quindi gli dico di no ecco su cui volevo uccidere è corrotto un ragazzo grasso ah sì ci abbiamo chiamo l'esecutore io gli dico sei strano sapete com'è già nell'episodio scorso praticamente lui questo qua ci dice abbiamo un tipo strano e con una barba finta è stata in giro a dare caramelle ai bambini noi chiamiamo il nostro giustiziere si scopre che è il giustiziere stesso e quindi lui dice che voleva tipo far divertire i bambini io gli diciamo sei un tipo strano la tua moglie è segretamente in amore innamorata di qualcuno tu bugiardo la chiesa è felice lo che pensa queste qui sono stronzate per la chiesa mio lord ti piacerebbe cacciare qualche magliare salvatico? yes la caccia è stata un successo dovremmo fare un bel banchetto bene bene stiamo durando qualcuno ha ucciso un ricco mercante dice che è stato si dice che è stato il senatore dovremmo investigare dico di sì vado a farmi una passeggiata nel giardino non sono occupato sono occupato ho trovato un fungo blu e uno marrone nella foresta quello blu sembra mangiabile no no non devo drogarmi ci sono troppe persone da dover giustiziare ho bisogno dell'aiuto dell'esercito no l'esercito è troppo basso dai c'è abbastanza potere per rafforzare la giustizia divina nel nostro paese il papa è pronto a pagare il prezzo no siamo in guerra con troppi nemici e ci costa una fortuna dovremmo negoziare un trattato di amicizia io dico di sì vaffanculo l'esercito quanto va giù questo è ottergioso il generale blu e ton è stato visto letto con la regina chi dovremmo giustiziare la regina perché sennò guardate guardate l'esercito quanto va giù il rex mi invita a seguirlo ok ok mi porto in un dungeon no non voglio andare nel dungeon mi porto nella foresta e qui noi sblocchiamo ancora l'effetto che ci che praticamente ci ha aiuto un sacco perciò per condurre delle nuove ricerche sulle armi assolutamente sì guardate quanto vanno su un mare in mannara bene l'esercito è salvo un convento di suore ancora sti indemoniati io chiamo il generale che va giù tantissimo pensavo da 6 giorni pochissimo massimo 5 un compagnia di mercanti ha iniziato a installare a micro birrerie nella nostra capitale la birra è il nostro business di monaci io gli dico di sì così i soldi vanno giù ma di poco questa fine non l'ho mai sentita però dovremmo creare un pilgrinaggio alla tomba di Sant'Armando i pilgrinaggi non mi dovrebbero dare dei soldi eh no pensavo a un movimento di gente il generale Bromington è non me ne frega niente il generale Bromington è nostro amico ok quindi siamo sotto attacco io dico ok ok entrano i medicati nella città e io gli dico di andare fuori ok un uccello che fa gr ok per favore stop stop ah si praticamente cioè sapete com'è la caccia alle streghe ci chiede di fermare la caccia alle streghe gli dico di sì voglio visitare i nostri vicini senza dio meno che tu non abbia bisogno di me qua io gli dico di no va pure così ecco qui guardate oh dio quanto andiamo bene ragazzi dovremmo raggiungere un'adienza mostrami che ti dobbiamo creare una specie di facciamo un teatro dice lui io gli dico di no perché ho bisogno di più dell'esercito che del popolo visto che è più importante i baroni dall'est sono di nuovo in guerra e la loro popolazione sta attraversando le nostre frontiere chiudete le frontiere date il benvenuto diamogli il benvenuto che sembra che una roba abbastanza etica da fare potrei costruire un ospedale per poter prevenire le epidemie madonna quanto mi costa io gli dico di e il dottore che fia signore le tuorine sanno di non me ne frega un cazzo io continuo a cavalcare tutte le robe che ho già visto nel gameplay precedente mi piacerebbe veramente dirti ok mi piacerebbe dirti perché il dottore non vuole che l'ospedale funzioni eh io non intendevo questo quindi per quanto riguarda l'ospedale ah lei viene da noi e ci dice va bene ecco l'ospedale così si viene su un'epidemia siamo salvi il piglinaggio di San D'Armando ci ha portato centinaia di persone migliaia di persone vorremmo monetizzare l'evento vai chiesa vai così papà è così che si ragiona lunga vita al re oggi hai raggiunto 50 anni non me lo ricordare ok 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 qua la spia che rompe il padre cazzo i fabbri della capitale hanno creato un cartello per organizzare ok no io gli devo dire di no o si praticamente hanno fatto un cartello sapete come commercio legale tipo la mafia e io qui non saprei proprio che fare perché se do l'approvazione la chiesa e il popolo vanno giù ma vanno sui soldi io dico i soldi dovrebbero andarci poco si bene bene ok non è cambiato niente tutto a posto ah si ok perché come ci dà dei consigli su come vivere io gli dico si va bene e il popolo va giù chissà perché c'è stata un'esposizione della capitale non sappiamo cosa è successo dovremmo chiudere le porte della città non so perché gate non riesco di collegare la porte stiamo diventando i vecchi ma mi piace la tua compagnia una pozione che ti farà sembrare dieci volte più giovane si no io gli dico di si perché così facendo ok il popolo va su va bene siamo abbastanza stabili per ora sono abbastanza confida abbastanza nella no io gli dico di no perché voleva fare una roba col sangue gli ho detto non far niente che più di una volta il dottore mi ha rovinato il regno posso insegnarti un po' di cose riguardo la magia bianca si si forse qua ci aiuta guardate ragazzi un modo per poter fregare il diavolo si vedo sei numeri io gli dico ok cazzo me ne posso fare di sei numeri sono già date passate posso disegnare formiche rosse nel letto del no gli dico di no qualsiasi cosa volesse fare dovevo sorganizzare una ancora stravacchicchi non ho ancora capito cos'è ragazzi ah più battuglie di notte ok io gli dico di va bene così il popolo esercito vanno su i soldi cercheremo di arrangiarci ti piacerebbe giocare a nano rosso mio signore è un gioco di praticamente è questo gioco di carte ok e ora praticamente io vado avanti a spammare verso sinistra ragazzi perché così facendo vinco ogni volta perché ho l'abilità speciale che ogni volta vinco ogni volta che Giullano mi fa questi giochi io vinco e praticamente Giullano c'è abbastanza soldi da poter riempire la cassa reale proprio la banca reale benissimo vado avanti così due o tre minuti ragazzi a spammare tipo gli dico si continuiamo a giocare continuiamo a giocare lui continua a dire la fortuna del principiante ok raggiungiamo 80 ragazzi che così facendo poi ho paura che vado troppo su ok basta cosa ancora no basta 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 non sono mai mai detta sta roba qui ok basta ok non so cos'è successo ragazzi in ogni caso ho vinto 100 monete e ho perso ho perso moriamo perché abbiamo mangiato troppo penso che dovessemo morire ragazzi perché il diavolo che fin ha fatto e il diavolo che fin ha fatto no eh ragazzi mi il diavolo se n'è andato siamo bloccati qui per sempre non sei stanco di questo io gli dico di sì non sei riuscito a rompere la maledizione prova ancora cosa non ho rotto la maledizione ma cosa dovevo fare io per il diavolo mi guardo una wiki ok guardiamo ora che succede la fine udio che figo guardate che gli anni vanno indietro sempre più veloci dai che la registrazione è un tempo limitato qui potete vedere tutti quanti i miei re che sono passati ve lo lascio un po' passare ragazzi vabbè il gioco finisce qui ragazzi ci si vede al prossimo video ciao a tutti ok ragazzi quindi ho finito velocemente perché in tempo di registrazione pensavo fosse troppo lungo e quindi mi sputtanasse la registrazione in ogni caso io il gioco proverò a finirlo per conto mio cioè per conto mio cioè andrò avanti a rigiocarci per conto mio e poi cercherò di capire come finirlo e lo porterò sul canale cercando di fare il good ending cioè cercando di fregare il diavolo in ogni caso il gioco la serie è finita qui come potete vedere resetterò tutto da capo e cercherò di sconfiggere il diavolo ciao a tutti ragazzi